Ben ritrovati ad un nuovo appuntamento del quotidiano della salute, la nostra rubrica quotidiana dedicata alla medicina, alla salute e al benessere. Prima di partire vi ricordo che per qualsiasi domanda richiesta segnalazione potete contattarci alla nostra mail di redazione che vi lasciamo in sovraimpressione. Oggi ci occupiamo di ipercolesterolemia, un problema molto comune che indica un'eccessiva presenza di colesterolo cattivo nel sangue, un'arma molto potente e sicuramente quella di seguire una corretta alimentazione per poter prevenire ma anche combattere questo tipo di problematica. E quando si parla di alimentazione, chi vi viene in mente? Il nostro esperto di fiducia, il dottor Lorenzo Traversetti, biologo nutrizionista, che è tornato a trovarci nei nostri studi. Ben trovato. Ciao Monica, ben trovato anche a te, un saluto a tutti. Allora innanzitutto ci spieghi scientificamente qual è la correlazione tra cibo e colesterolo. È una correlazione importante ma non essenziale perché se è vero che il cibo possa incidere sui valori di colesterolo circolanti, è altrettanto vero che un buon 60% del colesterolo che abbiamo nelle nostre vene, nelle nostre arterie, viene dal nostro fegato, quindi in realtà non è toccato direttamente dalla dieta. Chiaramente se parliamo di un soggetto che soffra di ipercolesterolemia di tipo familiare, quindi genetica, vuol dire che produce di suo troppo colesterolo, troppo colesterolo cattivo e quindi di conseguenza l'alimentazione è sì un supporto ma non è risolutiva. Se invece al contrario ci dovessimo riferire ad una persona la quale manifesti un colesterolo molto alto come conseguenza di errate abitudini alimentari, in questo caso correggere questo aspetto diventa essenziale per riportare i valori all'interno del range di normalità. Quali sono i cibi da prediligere in caso di colesterolo alto? Allora le verdure e in generale tutti gli alimenti che contengano fibre sono molto utili perché le fibre contengono al loro interno delle sostanze che rallentano l'assorbimento di molti nutrienti compreso il colesterolo, perché qui apro e chiudo una parentesi, il colesterolo viene demonizzato ma in realtà noi possiamo e dobbiamo assumere fino a 300 mg di colesterolo al giorno perché serve al nostro organismo, quindi non è giusto parlare di eliminazione completa del colesterolo. Chiaramente l'utilizzo delle fibre per l'appunto fa in modo e maniera che la digestione appenga con i giusti tempi e quindi di conseguenza il nostro corpo si sappia regolare e quindi sappia lui stesso dosare il quantitativo di colesterolo che debba essere assunto attraverso l'intestino e quale invece debba essere eliminato. Molto utili sono gli alimenti della famiglia del carciofo, quindi parenti del carciofo, perché contengono all'interno delle sostanze, dei complessi fitati che agiscono direttamente sul fegato e quindi regolano l'assorbimento del colesterolo a livello dei recettori presenti nel fegato, quindi uno step successivo. Il controllo è quindi effettuato a due livelli utilizzando fibre e parenti del carciofo come tipologie di alimenti andiamo ad effettuare un'azione sinergica che permette di mantenere i valori di colesterolo derivanti dalla dieta all'interno del range di normalità. Ecco al contrario invece in questi casi, in caso di colesterolo alto, quali sono gli alimenti da limitare o addirittura evitare? Anche qui sfaterei un mito, chiaramente e questo è vero, gli alimenti che contengono tanto colesterolo, quindi gli alimenti particolarmente grassi e di origine animale devono essere controllati e non vanno abusati, ma è anche vero che i valori alti di colesterolo sono conseguenza di un abuso di zuccheri, soprattutto di zuccheri semplici. Quindi occhio a preferire pasti per esempio orientati solamente sul consumo di un cereale come per esempio il piatto abbondante di pasta e basta non mangio altro, oppure il piatto abbondante di riso, perché al pari di un consumo di un quantitativo alto di carne possono e hanno anzi un effetto diretto sull'innalzamento di valori di colesterolo circolante. Per il resto non è un pochettino di carne con il suo giusto contenuto in grassi e in questo caso in colesterolo, così come l'uovo ad essere un alimento che vada demonizzato se si soffre di questa patologia. In quali casi specifici è opportuno e consigliabile assumere degli integratori, addirittura dei medicinali? Il colesterolo dovrebbe assumere dei valori indicativamente al di sotto dei 200 milligrammi, intendo valori che vengano fuori dalle analisi del sangue, con un colesterolo cattivo, quindi quello che si chiama colesterolo LDL, che sia al di sotto di un valore di 120-130, poi lì dipende dal kit che i laboratori di analisi utilizzano che permetta di definire qual è il valore soglia. Se si hanno, se si dovessero manifestare dei valori sopra questa soglia, oppure anche leggermente sotto, ma in persone che hanno una familiarità per problematiche cardiovascolari, allora lì si rende assolutamente necessario ricorrere al farmaco, qualora il medico ritenga unica strategia da seguire quella di assumere per l'appunto un presidio medico, oppure all'utilizzo di un integratore che può permettere di abbassare fino a un 20-25% questi valori per l'appunto, riportandoli al di sotto del range di normalità e quindi evitando tutti i rischi connessi con il superamento di quella soglia. Quali sono i fattori di rischio dell'ipercolesterolemia? Il contenuto di grassi legato all'ipercolesterolemia che circola all'interno del nostro vaso sanguigno, quello che può fare è, soprattutto se sotto forma di colesterolo cattivo, creare un intasamento, come una sorta di blocco. Hai presente i castori quando costruiscono la diga? Ecco, l'LDL fa lo stesso identico effetto, crea una sorta di diga all'interno del nostro vaso sanguigno e gradualmente aumenta questo livello di occlusione, di conseguenza il sangue passa con più fatica. Inizialmente questo può avere una ripercussione, per esempio, sui valori di pressione, perché se il lume del vaso si riduce, la pressione per permettere il passaggio di sangue aumenta, ma si può arrivare all'estremo ad un'occlusione quasi totale o totale e questo chiaramente crea un problema molto serio perché può portare alla comparsa di patologie aterosclerotiche con conseguenze purtroppo in alcuni casi anche letali, quindi bisogna prestare decisamente attenzione a questi valori. Parliamo di uova, è vero che si tratta di un alimento ricco di colesterolo e quante uova andrebbero consumate durante l'arco della settimana? Le uova sono un alimento, soprattutto nel tuorlo, altamente ricco in colesterolo, però degli studi recenti hanno completamente rivoluzionato l'interpretazione e l'associazione delle uova nei soggetti con ipercolesterolemia, perché si è visto che questo colesterolo in realtà incide favorendo la produzione endogena di colesterolo buono e abbassando la produzione endogena di colesterolo cattivo. Quindi paradossalmente le uova che sono molto ricche in colesterolo sono un alleato per l'ipercolesterolemia perché permettono di abbassare il colesterolo patologico. Quindi è aumentato di molto il numero di uova che possono essere consumate settimanalmente arrivando addirittura fino a 6-7 uova. Praticamente si parla di un uovo al giorno. Oppure, considerando una porzione di uova, dato che si può arrivare a consumarne anche due contemporaneamente, le si possono mangiare anche tre volte a settimana. Esiste una correlazione tra glicemia e colesterolo? Esiste una correlazione diretta perché il colesterolo e lo zucchero vengono entrambi metabolizzati a livello del fegato. Quindi nel momento in cui c'è uno squilibrio legato all'uno, si può avere uno squilibrio anche legato all'altro. Non è un caso infatti che uno dei primi effetti collaterali del farmaco, le statine che vengono abitualmente utilizzate nei soggetti che soffrono di ipercolesterolemia, soprattutto familiare, abbia come effetto collaterale per l'appunto quello di portare ad un innalzamento dei valori della glicemia. Quindi è comune nei soggetti ipercolesterolemici avere una glicemia al limite o leggermente sopra la soglia, vuol dire che bisogna prestare in questo caso attenzione particolare all'alimentazione. Ecco, per concludere vogliamo dare qualche altro consiglio ai nostri telespettatori per mantenere il corretto valore del colesterolo, ma soprattutto che cosa non dovrebbe mancare davvero nelle nostre tavole? Allora, non dovrebbero mai mancare le verdure ai pasti, perché la verdura permette di mantenere un picco glicemico leggermente più basso, quindi un innalzamento della glicemia dopo l'assunzione del pasto che si mantenga sotto soglie e quindi permetta innanzitutto di avere una sazietà che dura più tempo. Allo stesso tempo dà modo al fegato di gestire ciò che gli arriva attraverso il tubo digerente e quindi evita che si creino quegli accumuli, compreso per l'appunto quello di colesterolo, che poi possono portare ad un maggiore rischio di insorgenza di patologie. Anche i legumi? I legumi sono molto utili. Cerchiamo di gestire l'assunzione esagerata di legumi perché il legume contiene all'interno dei fitati, quindi possono aiutare nella gestione del colesterolo, il rischio è che questi fitati possano portare ad una riduzione dell'assorbimento per esempio del calcio o del ferro. Quindi i legumi andrebbero mangiati 4-5 volte a settimana, evitiamo alimentazioni sbilanciate completamente verso i legumi perché potrebbero portare a iponutrizione per altri nutrienti. Ebbene, grazie al dottor Lorenzo Traversetti, vi ricordiamo se avete altre domande da porre al nostro esperto altri chiarimenti in merito all'argomento trattato, potete contattarlo direttamente, ricordiamo i contatti. Certamente, mi potete contattare direttamente al telefono al numero 333 86 38 938 oppure mandandomi una mail all'indirizzo lorenzo traversetti chiocciolaiou.it. E grazie al nostro esperto per il suo preziosissimo contributo, grazie a tutti voi per averci seguito, il nostro quotidiano della salute torna tutti i giorni con altri preziosissimi consigli di salute e benessere. Buon proseguimento e arrivederci. Grazie a tutti.